ultimi ascolti tipo? ma gli ultimi ascolti senza vergogna? no 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 mai senza vergogna ma poi no che comunque Sherry ci sta ma guarda forse me la riascolto dopo però no 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 ma ultimamente che sto ascoltando i Beatles ah così? io ascolto sempre sì perché stavo ascoltando siccome sto studiando chitarra c'è un pezzo che si chiama Indie Lover e stavo riprovando a farlo quindi stai studiando chitarra e canto? sì ok ci vuole moltissimo cioè sono ancora alla fase quella dei primi cari con le dita che non sai dove vanno? sì che mi fanno malissimo le dita perché sono una chitarra perché ti immagini tipo su un palco unplugged no allora perché andando in studio spesso ho capito che ci capisco ma non ci capisco nel senso che a livello c'è da dentro poi c'era Cicco Pisco che è andato sempre riesco a capire tutto quello che sta succedendo riesco a capire le note a capire gli accordi ma poi non so di cosa sto parlando